Era il 2007, 12 anni orsono, quando il tram ha iniziato a funzionare sulla linea nord-sud di Padova. Tra Stop & Go a breve potremmo vedere circolare su strada il cosiddetto SIR3, il collegamento tra la stazione e Volta Barozzo, un progetto che divide la città tra fieri sostenitori e fieri detrattori. Tram sì o tram no? Tram sì, sicuramente, decisamente sì. Favorevole anche alla nuova linea che il comune è per cui... Non solo la nuova, anche la terza linea. La terza linea, le tre linee, renderebbero un servizio completo alla città di Padova. Direi il tram no, perché è un problema del traffico, che mi credi, però diciamo che il tram serve. Il tram serve perché perlomeno qualcuno lascia la macchina in parcheggio e anche fa meno smog, diciamo, se proprio vogliamo essere fiscali. Le fanno paura i lavori che servono per realizzarlo? Un po' i lavori sì, perché purtroppo logicamente mettono queste barriere, le macchine vengono parcheggiate da una parte, dall'altra parte le barriere. Che arriva dai comuni della cintura, come questo cittadino di Cadoneghe, puntualizza. Questo tram non funziona, non serve nulla, trovo piccolo. L'abito a Canor di Padova, a Cadoneghe, è inutile, anzi è un danno importante. Mi auguro che venga risolto subito. Noi a Cadoneghe non abbiamo il collegamento tra Padova centro e Cadoneghe. Andiamo a fare lo sbarco al tram di Padova nord e così via. Così non funziona, trovo piccolo. A Mestre c'è un tram che ha quattro vetture, non ne sono tre, per esempio. Quindi lei vorrebbe che fosse potenziato? Assolutamente sì, con dei tratti su bussugom al mattino e alla sera che consentono all'Interland di poter venire su Padova centro.